Antonio Annunziante, presidente del Conart. Villaggio Artigiani è uno dei polmoni produttivi più importanti della città di Foggia, ma da diverso tempo è alle prese con tanti problemi. Quali sono quelli più importanti? I problemi sono tanti. Quelli più importanti parliamo dai rifiuti. Il villaggio Artigiani è pieno di rifiuti, la raccolta in modo alternato, e poi le strade, la segnaletica. I problemi sono tanti che portiamo avanti da decenni. Nell'ultimo periodo si sono aggravati in quanto non c'è un contatto diretto con l'amministrazione comunale, anche se noi qualche mese fa chiedemmo un incontro con un viando una PEC, ma non abbiamo avuto nessuna risposta in merito. Le imprese cosa dicono? Pagano regolamente le tasse, però poi devono tutti i giorni far fronte a questi problemi? Le imprese purtroppo pagano le tasse e le devono pagare. I problemi sono tutti i giorni. Per quanto riguarda i rifiuti, noi chiediamo da anni una piattaforma logistica, perché considerando che questa è una zona di attività produttiva, sono rifiuti particolari che i cassonetti non sono idoni alla zona. Le strade, considerando che qui bastano mezzi di lavoro, autocarri, automenzi che consegnano merce, con le strade piene di voraggini, le difficoltà sono tante. Intanto però le nostre imprese, che la mattina alle seggia sono qui sul posto, fino alla sera inoltrata, pagano regolamente le tasse per quanto riguarda i tributi, quando riguarda i passi carrabili e tutto quello che c'è da pagare senza fare abiezioni. Diceva prima che avete chiesto un incontro al prefetto e ai commissari, senza però aver ricevuto risposta, lo vogliamo fare un appello? Sì, noi chiediamo ai commissari più attenzione. Per la verità, in oltre 40 anni, da quando è nato il consorzio, il villaggio Artigiani, l'attenzione da parte dell'amministrazione non c'è mai stata tanta, forse soltanto in prossimità di elezioni, però qualcosa è stata fatta. Nell'ultimo periodo c'è l'assenza totale, da un anno a questa parte, da quando si è insediata la commissione prefettizia. Ripeto, abbiamo chiesto un incontro via PEC per parlare delle problematiche, vanno come diciamo oltre le strade, la segnaletica è completamente assente, infatti ci sono strade di assenza unica che ormai vengono utilizzate a doppio senso. L'illuminazione, che in alcune parti è carente o molti pali non funzionano, abbiamo chiesto un incontro per discutere e parlare di queste problematiche, per arrivare a una soluzione, però ad oggi a distanza di un anno non abbiamo nessun condatto e nessun riferimento.